Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Colpo di scena a Beautiful, ma stavolta non per una improvvisa svolta nella trama. È la decisione di una delle interpreti di punta della SOP che stravolge le carte in tavola Punto c'è chi farebbe carte false per recitare sul set di Beautiful, e chi vuole smettere perché cerca qualcosa di più stimolante e gratificante È il solito discorso, chi ha il pane da mangiare non ha i denti, e viceversa A fare notizia è la scelta annunciata e compiuta da una delle attrici più amate della popolare SOP Il retroscena della partenza che spiazza il pubblico di Beautiful È un periodaccio per Queen Fuller nel microcosmo di Beautiful. Nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni, l'immarcescibile Eric Forrester ha deciso di troncare con lei, dopo aver scoperto che l'ha tradito con Carter Nelle puntate americane invece, l'ex moglie dello storico patron della casa di moda, è uscita definitivamente di scena nell'episodio dello scorso, 29 agosto Un addio improvviso che ha lasciato interdetti e increduli i suoi fan L'attrice Rena Soffer ha spiegato il motivo per cui ha deciso di lasciare la famosa SOP americana, in un'intervista, podcast con SOP Opera Digest In sostanza mi hanno detto che non avevano idea di cosa sarebbe successo a Queen, chiedendomi di passare in recurring A quel punto mi è stato chiaro che non avevano piani per il mio personaggio, ed è stato facile decidere Credo di meritare di più che restare con le mani in mano, ad aspettare che a loro vengano idee Un personaggio recurring, per chi non lo sapesse, è un personaggio secondario che appare di tanto in tanto, spesso interpretando un ruolo importante in più di un episodio Ma l'attrice che interpreta Queen, ha sempre avuto un ruolo da protagonista in Beautiful, e non ci sta, già è difficile restare in una SOP quando non hai una storia spiega Tornare come recurring in un programma in cui sei stato ogni giorno un protagonista attivo, non è fattibile per me Non è la direzione che voglio prendere, voglio andare avanti nello spaventoso ignoto L'attrice di Queen non intende sputare nel piatto in cui ha mangiato Sa di essere stata fortunata ad aver lavorato in una SOP che le ha permesso di crescere sua figlia in tutta serenità, ma aveva già deciso di lasciare Beautiful per esplorare nuovi orizzonti Avevo già deciso che sarebbe stato il mio ultimo contratto, e quando si è conclusa la storyline di Queen e Carter O, capito che era il momento giusto Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace, e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video